Scendono di nuovo in piazza gli idonei del concorso Laore, che chiedono alla nuova amministrazione regionale un tavolo di confronto e di dialogo per poter parlare delle azioni, delle strategie dirette a far ripartire lo scorrimento di una graduatoria in stallo da oltre un anno. Il sit-in di protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale, in contemporanea alla riunione della Quinta Commissione. Oggi si dovrà discutere anche con l'assessore all'agricoltura tutte le questioni relative al settore agricolo, settore ipico, quindi anche la nuova agenzia ASVI. Poi si dovrà anche parlare della nomina del Collegio dei Revisori, che da mesi ha paralizzato completamente i lavori le funzioni delle agenzie in campo agricolo, Argea, Agris, Laore, per cui noi chiediamo che oggi finalmente riescano ad audirci per poter capire da parte loro quali sono le strategie che vogliono mettere in campo, sia per dare respiro agli uffici regionali e sia per far ripartire lo scorrimento della nostra graduatoria, che è costituita da tantissimi professionisti, tantissimi lavoratori che già hanno una grande esperienza nella pubblica amministrazione, ma che vorrebbero rinnovare l'organico della nostra regione. La graduatoria a laurea è una graduatoria già pronta, inattacabile. La nostra presidentessa dovrebbe prendere in mano la situazione degli doni.